domenica 22 settembre alle ore 19 30 portofuori in via combattenti alleati 22 alla sagra del cappelletto si svolgerà una riunione pugilistica organizzata dalla box team musella portofuori in collaborazione con edera box gym ravenna questa manifestazione sarà dedicata alla memoria di vincenzo piretto che ci ha lasciato prematuramente nel 2018 vincenzo che militava nell'ederalotta ravenna proveniva dalla lotta greco romana ha vinto il titolo italiano di categoria per ben sei volte negli anni 80 e nel 2009 ha fondato assieme all'amico fraterno ciro musella l'associazione sportiva dilettantistica portofuori box team musella 12 gli incontri di pugilato in programma e sicuramente saranno presenti alla manifestazione anche le vecchie e nuove glorie della noble art ravennate che assieme agli amministratori locali porteranno il loro saluto al pubblico presente a presto 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 Grazie a tutti